Ciao, tutto bene? Sì Bene, sono sempre io Il sistema operativo del faccia a faccia Come sempre nei nostri scherzi telefonici La vittima può diventare il carnefice Minchia come sono violenta Per questo faccia a faccia abbiamo preso le voci di Abbiamo preso la matricola 666 Il male, il demonio, lui Bestemdienem Ora con la sua voce chiamiamo la gente Abbiamo scelto una vecchia tutta spaccata a casa Che aspetta di vedere i forum Prego inserire il numero di telefono Ma che telefono ci abbiamo? Abbiamo una voce elettronica ma un telefono a rotella Pazzesco Auguri Grazie Auguri Pronto? Chi è? Eh, dimmi tu chi sei? Chi è? Dimmi se è Tony Ma non mi capisco, scusate che decide Eh, dimmi tu chi sei? Ma non mi capisco, scusate Dimmi se è Tony Professionista di abestima E ti mangio sangue e dopo ti mangio il corpo Ehi Pazzesco Pazzesco Professionista di abestima Pronto? Pronto? Pronto, chi sei? Eh, dimmi tu chi sei? Io sono Giuseppe, ma tu chi sei? Dimmi se è Tony Chi sei? Dimmi se è Tony Professionista di abestima Ma che professione? E ti mangio sangue e dopo ti mangio il corpo Non è un lavoro Senti, tutti i giorni si dà una cammoria Per dire la veloce pulita Come già sera stamattina E state venendo ora Pazzesco 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 Ma non mi capisco, scusate Ma non mi capisco, scusate Va bene Mientissimo Oddio Pronto? Pronto? Sì? Eh, dimmi tu chi sei? Che cammoria Ma tu che cosa vuoi? Perché di mattina ci non vede la testa? Mi chiamo è Tony Ah, va bene Buongiorno Professionista di abestima Ma che lavoro E ti mangio il sangue E dopo ti mangio il corpo Pronto? Pazzesco Pazzesco Bene, molto bene Adesso inviame in funzione Io propongo un test di personalità Sì, sì Sì, sì Non avevo dubbi Bene inserire il numero di telefono del demonio 3, 4, 7, 6, 6, 6 Ti bevo il sangue 6, 6, 6, 6 E gli ascolti si impegnano Eh sì Mamma ragazza C'è una situazione colta dietro Due minuti di delirio Mamma, prepariamoci dai Io mi siedo Pronto? 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 Pronto chi parla? Pronto Eh, dimmi, tu chi sei? Dimmi, siamo i toni Pezzo di merda che te sei da dritto Sei un coniglio Coglione 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 E dopo io l'ho tutto a satana Ma avete fatto un cazzo Coglione Assassino 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 Coglione 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 Signore Angelo Nero Coglione Dammi la forza Proteggli Se la gente vieni a ciurte i c***o, faccio. Hai rinunciato, hai rinunciato? Occhio. Angelo Nero. Sì, sì, lui. Non sei bucchia in vero. Che base è? Oggi un po' tardi alcune a cosa? Pronto? Amore. A cosa di un u**o? Dimmi, tu chi sei? Ma l'ambe è il c***o di c***o! E ci ha metto... Io c***o di c***o di c***o! Il c***o di c***o! C***o di c***o! Il c***o di c***o! Il c***o di c***o di c***o! Il c***o di c***o di c***o di c***o! Il c***o di 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 c***o! Come cosa dice? Penso che per oggi possa bastare. Spero che sia stato di vostro gravimento. Voglio ricordare una cosa. Che a noi le persone che invocano il Signore, insultandolo, ci fanno schifo. Bravo, bravo. Ecco perché gli abbiamo fatto il test di personalità. Lo zò è anche questo. Bravo. Combatta i bestemmiatori abusivi. Ciao! I bestemmiatori abusivi? Eh sì, perché noi abbiamo il certificato. Ah, ma che ci sono permesso! Io ho la patente! Addirittura! Aubi! Secondo me bestemmia man con tutti questi c***o, prima o poi lo fanno imperatore mongolo onorario. Pensa ai genji scubila ai c***o!